Stiamo lavorando tanto con questi ragazzi e non era facile perché sappiamo che Francavilla-Insigni è sempre un campo difficile e quindi una squadra organizzata, l'Azic lo conosco bene, gli faccio i complimenti a lui, alla sua squadra, a tutta la società e quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, di sofferenza, però tranne qualche occasione nel primo tempo dove magari abbiamo anche approcciato bene, però poi il Francavilla nel primo tempo soprattutto ha avuto una superiorità rispetto a noi poi siamo stati bravi il secondo tempo a variare qualcosa, a poter invertire anche spesso gli esterni come piace a me quindi hanno iniziato a piede invertito, poi piede su piede, poi di nuovo a piede invertito fino a che abbiamo trovato un gran gol, è stata una bella azione, siamo contenti anche perché ha fatto gol un 2002 quindi i ragazzi stanno crescendo, stanno migliorando, però come ho detto anche la settimana di Lavello dopo la partita di Lavello c'è sempre tanto da lavorare, però questo insieme alla partita di Lavello è sicuramente un risultato che dà morale a questi ragazzi, che dà fiducia, però c'è veramente la strada è quella giusta ma dobbiamo andare tutti quanti nella stessa direzione e c'è un grande lavoro da fare quindi bisogna continuare a lavorare così. È un valore importante perché però non ci dobbiamo fermare non dobbiamo pensare, io l'ho detto anche dopo la partita con il Lavello che non ci dovevamo fermare lì, non ci dobbiamo fermare neanche oggi perché questo non vuol dire che noi abbiamo risolto tutti i nostri problemi tutti sanno come i ragazzi stanno lavorando, le difficoltà che ci sono e anche la società stessa sa che c'è bisogno di dare una mano a questi ragazzi anche aggiungendo qualcuno che possa far rifiatare perché sicuramente è dura affrontare tante partite anche con le partite che ci sono ravvicinate. Noi domenica affrontiamo il Bitonto quindi la nostra attenzione è già verso quella partita e c'è bisogno di una mano da parte di tutti quindi dobbiamo continuare a lavorare, io credo solo ed esclusivamente nel lavoro continuando a lavorare speriamo di salvarci perché non dobbiamo montarci assolutamente la testa se non facciamo veramente l'errore più grande. Avete visto che squadra è il Francavilla sappiamo che cos'è, se è di girone H, quindi bisogna continuare a lavorare così.